Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti, signori, episodio numero 49. Siamo primi in classifica, a meno che non abbia cambiato le carte in regola, no, siamo primi in classifica, pari punti con il Lutton, a 18 partite giocate. Siamo contro il Salford che è nono, ma prima di partire il video, signori, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di condividere il video, vi ricordo di fare un salto sul secondo canale, mi trovate come Maullo941, bis, vi ricordo di iscrivervi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook, dove tramite i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola. Ultima cosa, date un'occhiata sempre ai link in descrizione al video per rimanere sempre collegati con me. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video di oggi. Allora, io volevo un attimino vedere quante, come siamo venuti con le partite, mamma mia. Abbiamo quattro partite per concludere novembre, dicembre è pauroso, mamma mia quante partite che abbiamo. Gennaio è distruttivo, va bene, ci aspettano ancora carrettate di partite, signori, per concludere questa stagione. Vabbè, se qualcuno la può iniziare, se il campionato va bene, va bene qualcuna, inizieremo a simularla magari, come ai vecchi tempi. Vediamo qua un ottimo gli obiettivi. Ottieni di settore in questa stagione li abbiamo fatti. Aggiungi i sedicesimi, termina metà classifica, fai giocare il 50% delle partite della stagione successiva, almeno un giocatore del vivai acquistato durante la prima sessione. Questo non so cosa voglia dire. Termina, termina, vendi due giocatori e comprane uno importanti per rimpiazzarli. Termina la stagione spendendo tutto il bacio di mercato. Ma tu sei pazzo, ma non esiste proprio. Ma non esiste assolutamente proprio. Allora, sistema un attimino la squadra, signori. Allora direi, questa volta gioca Aladino. Aladino, Scott ce l'abbiamo in panchina. Sallion, Fury Cannon dentro Luna, ok, che però cambia da questa parte. Giardino, Stevens e Clark, va bene, sì, confermiamo loro, confermiamo loro, signori. Bella così, easy busy e andiamo in campo contro il Salford, signori. Ok, signori, maglia blu per noi. Atacchiamo da destra verso sinistra, calcio inizio battuto e vediamo. Vediamo cosa succederà in questa partita. Vediamo cosa ci nasconde questa partita. Attenzione, attenzione, piccola Luna, attenzione, piccola Luna che vede bene. Giardino sulla sinistra perché Stoccon era il netto fuorigioco. Attenzione, cross leggero, colpo di testa inutile da parte di Stoccon. Va bene. Ah no, è calcio d'angolo, meno male. Pensavo avessimo fatto una caccata terribile, invece è calcio d'angolo per noi. Palla così, wielding, la cross leggera e spezza la di rovesciata. Il nostro Clark Kent la spizza malissimo, va bene. Attenzione allora a limitare l'aria. Gincischiano, gincischiano, gincischiano e non concludono. Va bene così per noi però. È una persona buona occasione che ha nel giardino. Attenzione che a parte incontro per il giardino. Non lo fermi, non lo fermi il giardino. Non lo fermi il giardino, non lo fermi il giardino. Non lo fermi il giardino, non lo fermi il giardino. Ci prova da solo. No, l'ha tirata fuori, la voti sta dentro. No, ma ci sono rimasto malissimo. No, ci sono rimasto malissimo. Malissimo, 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 malissimo. Bellissima qui l'apertura per il giardino. L'apertura per il giardino. Che entra in aria. Entra in aria, errore in fondo al giardino. La cross leggera. Mamma che gol, signori. E si è fatto pure male. Scusate, mi si è fatto male o no Aladino? Non ho capito perché è stato mezz'ora a terra a simulare che si fosse distrutto il ginocchio. E poi si è alzata e è andata a correre da un compagno per farsi abbracciare. Bellissimo il gol di Aladino. Sì, 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 mi sa che si è fatto male, però si teneva il ginocchio. Gran gol. Ma è di Aladino il gol? Non lo so nemmeno io. Chi ha segnato? Sì, Aladino, che però saltella. Quindi forse non si è fatto nulla. 1-0 per noi. Grande Aladino. Attenzione, allora. Attenzione, attenzione. Al limite dell'aria, il cross è buono. E da solo il tizio. Ma Lory fa buona guardia. La nostra piccola Lory. Sempre attenta su tutti i palloni. Attenzione, Giardino ci arriva, Giardino ci arriva, Giardino ci arriva. Deve riuscire a crossarla bene. Dobbiamo riuscire a crossarla bene. Mamma mia. Presa di testa malissimo. Presa di testa malissimo, però va bene. L'importante è che siamo sempre lì. Siamo sempre sul pezzo, signori. Attenzione, allora. Al limite dell'aria. Clarkette. Mamma mia. Mamma mia, Lory cosa ha salvato. Cos'ha salvato Lory, mamma mia. E qui è stato ammonito Aladino. Sì. Per un brutto fallo che ho fatto io prima ne sono onesto. Brutto, brutto, brutto. Però vabbè. Ci stava, ci stava. Una bella pedadona nelle ginocchia. Nientanto ci sta. Notte fonda. Notte fonda, proprio. Attenzione. Ancora loro. Devono per forza pareggiarla. Non c'è verso. Devono per forza pareggiarla. No, invece di tirarla fuori. Vabbè, vabbè. Rimessa laterale. Chiudiamo qualsiasi punto. E invece sono riusciti a trovare uno minite. Ravessi. Ravessi è buono, così. Evitiamo la rimessa laterale. Occhio ad Aladino che ha monito. Questi... Questi... No. Mamma mia. Va bene, va bene così. Dai. 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 Finiamo questo primo tempo. Non ci pensiamo più. Finiamo questo primo tempo e non ci pensiamo. Ok. Dai. Dai. In campo per il secondo. In campo per il secondo tempo, signori. Attenzione. È partito Sullivan. Subito Sullivan che non si è visto per tutto il primo tempo. Sullivan ha conservato l'energia per questo secondo tempo. Sullivan buttato giù, fallaccio. Grande Sullivan. Spietato. Mamma mia. Eh... Non lo so. Facciamo che qualcuno si arriva a prendere vicino e io invece la spara pacchio lì al centro per creare lo spazio. Stoppa la tira. Stoppa la tira. Ma secondo me l'ha presa di mano. Nettamente presa di mano, signori. Però va bene. Uuuuh. Grandissimo l'intervento. Stocco non ci torna. Calcio spettacolo, signori. Calcio spettacolo. Non si è capito nulla, però va bene così. Ogni tanto ci vuole un po' di calcio spettacolo. Così, a caso. Attenzione. Graves. Gruves, 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 Gruves. Mi serve un solo nome per Gruves, signori. Non riesco a trovarglielo. Grandissimo qui l'anticipo. Bello così, bello così, bello così. No. Aladino non era ben ispirato. Attenzione. No, 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 esce Lori. Mamma mia cosa ha parato Lori. Mamma mia cosa ha parato Lori, signori. Lori è il miglior portiere del mondo. Dai Salli, vai. Dai Zio Salli. Dai Zio Salli. Dai Zio Salli. Vai a tenere Zio Salli. Veloce come il vento. Veloce come il vento, zio. Veloce come il vento che la chiudiamo. Veloce come il vento che la chiudiamo. No, ma porca miseria. Perché l'ho accrossata così di marmellata? Ancora lo Zio Salli. Sono usciti ancora su quella fascia. Lo Zio Salli, lo Zio Salli, lo Zio Salli, lo Zio Salli. Stoccon. 2 a 0. Partita chiusa, signori. Partita chiusa. Il pesce dance. Le conosce tutte Stocconi, signori. Le conosce tutte Stocconi. Bello così. 2 a 0. Va bene, va bene, va bene. 2 a 0. Bello, bello. Pulito, pulito. Bello il gol. Facciamo dei cambi. Aspettate un attimo. Facciamo dei cambi. Aladine ha munito. Stoccon ha fatto doppietta. Ha fatto doppietta Stoccon. Chi l'ha segnato il primo? Non me lo ricordo. Però entra il nonno. Dentro il nonno Miura. Fuori, fuori, fuori giardino. Facciamo entrare il cantè. E poi facciamo entrare, facciamo entrare. A posto di Spike. A posto di Lori. So che è una sostituzione inutile, signori. Ma ogni tanto il portiere dobbiamo farlo giocare. Sennò praticamente mi si incacchia. Mi si incacchia. Se gente, col 2 a 0 lo posso fare anche entrare. Spike. Sul 2 a 0 Spike lo posso anche fare entrare. Mancano 30 minuti. Se pigliamo due per in 30 minuti, dico, lo caccio via Spike. Grandissimo. No, dai. Ma dai. Ma già se n'era andata la palla. Non puoi dare fallo dopo mezz'ora che avevi già dato il vantaggio. Dai. Grande nonno, grande nonno che la tiene lì. La gioca bene. Apertura 1-2. Sullivan ancora su quella fascia. Fa quello che vuole. Su quella fascia Sullivan. Attenzione. Il nonno non riesce a seguire l'azione. È rimasto indietro il nonno. Attenzione. Cross leggero. Aladino. No, peccato. Aladino. Attenzione. Il nonno. Il nonno Miura. Il nonno Miura. Il nonno Miura. Il nonno Miura. No. L'aveva piazzata ma non è riuscita. Stavolta il destro della potenza non c'era. Non c'era. Stavolta la potenza non c'è stata. Buona la mira ma la potenza non c'è stata questa volta del nonno. E va bene. Attenzione ancora loro. Meno male che Spike questa è riuscito a prenderlo. Meno male che Spike questa è riuscita a prenderla. Ripartiamo noi. Dai. Dai. Attenzione il nonno Miura. Cerca uno scatto. Uno scatto del nonno Miura. Nonno scatto del nonno Miura che non c'è. Mamma mia che spallata che gli hanno tirato. Mamma mia. Attenzione a loro su quella fascia. Palla messa dietro. Mamma mia. Non lo so. Spike stava a guardare il pallone. Due minuti di recupero. Mellor. Finisce qui signori. 2 a 0. Va bene così. Va bene così. Altri tre punti portati a casa. Altri tre punti portati a casa. Va bene così. Va bene così signori. Bello 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 bello. Ok signori. E questa è andata. L'inquadratura della sforbiciata volante di Aladino in cui si è distrutto un ginocchio. Però va bene. L'importante è la portare a casa tre punti. Gli abbiamo portati. Va bene così. Va bene così. Arriviamo al ridosso della prossima partita che è contro l'Alexandra che sono diciannovesi. Noi siamo sempre. Noi siamo secondi. Sempre a pari punti. Però mi sa che per differenza da Redi sopprimi loro. E va bene. Non fa nulla. Va bene signori. Detto questo io vi ringrazio. Vi ringrazio per i like. Per i commenti. Per i suoi genti. Per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga. Ciao.